Benvenuti cari follower, prima di entrare nei dettagli non dimenticate di incoraggiarci premendo il pulsante mi piace per questo video e iscrivendovi al canale. Grazie. Un forte temporale si abbatterà domani, martedì 24 ottobre 2023, sulle regioni settentrionali dell'Italia, per raggiungere in serata le regioni centrali con tempo molto maltempo, venti forti e grandine di grandi e medie dimensioni. Domani, martedì, quindi, allerta rossa e arancione per Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Giallo, per l'isola della Sardegna. Avvertiamo del rischio di improvvise alluvioni che si formano soprattutto in alcune zone del nord e del centro. Cercheremo di comunicarvi in seguito eventuali altre notizie importanti e al termine che possiate restare in buona salute.